Le società sono piene di debiti e non si sa come ripartire. Adesso anche il mondo del tifo è inquinato così. Una volta c'era il problema degli hooligans, la gente che non andava allo stadio. Negli stadi forse si torna. Ma c'è un punto da cui ripartire? Un punto da cui ripartire? Poi non l'abbiamo citato, non vorrei adesso fare un quadro totalmente apocalittico, ma non l'abbiamo citato forse il male peggiore. Ce n'è uno peggiore? Ce n'è uno peggiore, secondo me. O comunque tra i peggiori, che è la clamorosa influenza degli agenti, dei procuratori e i loro appetiti finanziari, che stanno creando un altro grosso problema che va sempre poi a carico delle società. Questo è un altro grande problema che va prima o poi risolto. Bisogna partire dal fatto che le società, i giocatori stessi, che tutto il movimento si assuma la conoscenza, finalmente non metta la testa sotto la sabbia di tutti questi problemi e se ne faccia carico. Questa è l'unica soluzione, perché altrimenti andremo verso una industria dello spettacolo fortemente malata, fortemente inquinata, dove però il vecchio sano concetto del calcio, dell'appartenenza della comunità è finito per sempre. Cioè è anche del tifo è finito per sempre, nel senso che a quel punto tanto vale giocare in stadi vuoti, in stadi vuoti, riprese televisive e via. La maggioranza non sono più tifosi, sono comunicatori, ormai vanno allo stadio per esprimersi poi nei social, quasi sempre in un formato aggressivo, violento e anche vile, cioè al riparo delle tastiere. Quindi anche il tifo dal punto di vista... Claudio, una battuta che devo chiudere, vai! C'è una speranza!